Querel Aguademar, ne parliamo con l'ex assessore e ora consigliere comunale Michele Paes. Ma sì, la Querel Aguademar ha veramente dell'assurdo. Si tratta di un immobile che questa amministrazione ha posto in vendita dichiarandolo libero e privo di contratti in essere. Ora sappiamo tutti che quel locale che si trova sul lungo mare Dante è uno dei locali più frequentati nel periodo estivo. E non può essere libero. Tuttavia viene messo in vendita l'amministrazione. Vi è un privato che si è giudicato lo stesso bene, però è naturale che i conduttori che esercitano l'attività di barri di intrattenimento facessero ricorso al tribunale. Il tribunale che non poteva che dar ragione al privato e ai conduttori che attualmente detengono il bene e condannando l'amministrazione peraltro anche al pagamento di salate e spese legali. Ma è una pratica amministrativa riguardo a una locazione commerciale tra l'altro scaduta. Recentemente è intervenuto il giudice per... dice esattamente come stanno le cose sulla natura del contratto. quando è stato impostato il contratto è stato appunto considerato come una concessione ed è stato inserito nel patrimonio indisponibile del comune. Il giudice ci dice no, non è assolutamente da inserire nel patrimonio disponibile, è una locazione commerciale e come tale la dovete considerare. Se c'è stato un errore è stato un errore fin dall'origine, quindi fin dal 2009 e ora dobbiamo intervenire, gli uffici interverranno semplicemente dando attuazione e quindi procedendo con lo sfratto tra l'altro perché la locazione è scaduta e perché c'è anche una situazione di morosità. Però è una pratica che ha poco a che fare con la politica, è una vicenda amministrativa che gli uffici amministrativi del comune stanno gestendo. Buttarla in politica, nella politica beccia ci sembra una pratica davvero che non porta a niente se non a creare confusione, di tutto abbiamo bisogno tranne che di confusione. Se poi andiamo a vedere l'assessore di quel periodo dove c'è stato l'origine dell'errore era proprio Michele Paes. Come spesso accade in questi casi, si guarda anche al passato per spiegare le cose del presente. Ma sì, questo è un atteggiamento assolutamente infantile e non all'altezza di amministratori che devono avere la responsabilità di governare il presente. È facile scaricare la responsabilità su altri, peraltro quando le responsabilità sono totalmente truppe. Questa amministrazione sta gestendo in maniera pessima tutti i settori della città, quello degli immobili pubblici, del solo pubblico è un altro caso eclatante e vi è un'ordinanza chiara del Tribunale di Sassari che attribuisce responsabilità palese e eclatante a questa amministrazione. Quello che è grave è però che a pagare siano i cittadini di Alghero, quindi l'esortazione che faccio è che gli amministratori attuali, il sindaco per prima, mettano mano al proprio portafoglio e paghino dei danni che non possono essere caricati sui cittadini algheresi. E l'opposizione, nel caso proprio l'ex assessore Michele Paes, dice basta dare delle colpe al passato, pensi non amministrare. Infatti non stiamo dando colpe a nessuno, se lui facesse opposizione con delle proposte invece che su pratiche amministrative che tra l'altro ha seguito lui, forse farebbe anche più bella figura.